Nota di colore, questa è la categoria con più candidature, ma comunque vince Buonelli Erede. Nota di colore, questa è la categoria con più candidature. Per l'English, l'ex area Expo. Il premio che arriva con un momento di un anno difficile in generale, ma positivo sotto tanti aspetti, sicuramente per queste operazioni che abbiamo e stiamo conducendo. Non è stato un anno semplice, siamo molto fiduciosi per il futuro e soprattutto arriva a premiare un lavoro di team che per noi è importante sulla vita. Senza team non abbiamo molto notare. Due progetti molto basti, direi. Immagino abbia la vastità dei progetti, comporti delle difficoltà aggiuntive di gestione dei progetti stessi. Bastissimi progetti, molte difficoltà di gestione, siamo sempre rimasti focalizzati tra l'obiettivo che ci ha stato dato i nostri clienti e siamo riusciti a casa con un'ottima visibilità. Bene, allora complimenti naturalmente e buon lavoro. Un saluto a tutto il vostro team.